Le cicatrici che portiamo sul corpo sono veramente fastidiose, ma oltre al fastidio è un disagio al sistema neurologico che provocano, perché bloccano dei passaggi neurologici. Allora cosa facciamo? Dobbiamo riprendere confidenza con il nostro corpo, capire che una cicatrice non è niente altro che un tatuaggio, un segno come quello degli avorigeni che si tatuavano, quindi un segno di virtù, di appartenenza a un clan, un segno di una battaglia, cioè cerchiamo di dare un attributo nobile e gioioso alla cicatrice. Appoggiamo le dita con la testa che guarda verso l'alto sulla zona della cicatrice. Muoviamo il corpo e poi facciamo uno, tre. Come per dire, sì, voglio reintegrare questa parte nel mio corpo. Poi ci spostiamo un po' qui in su, sempre partendo con la testa estesa, facciamo un piccolo movimento, come per dire, guarda che voglio lavorare su questo pancetto, e rifacciamo un momento. lo faccio un po' di più perché sento di averle bisogno. Poi ci spostiamo ancora più su. avverterete il corpo, poco per volta, è come se volesse ritrovare la sua condizione di salute originaria e reagisce a questi modelli. Adesso possiamo avere ancora dei drenaggi. Applicheremo nuovamente le mani sul drenaggio, testa estesa. poi passiamo in genere, io, dove ci hanno messo le cannone. ne ho, adesso non lo specchio per vedere, ma in questa zona, si è trovata una cicatrice, quindi estendo la testa e faccio tre volte per dire sì. voglio reintegrare questa parte nel mio corpo. è molto importante che questo avvenga. Ci tengo, voglio essere sano. qui continuo a immaginarmi come sono tra poco, perfettamente sano e vitale. e qui estendiamo, muovo. qui, ecco, qui mi dà una vertigia. quindi vuol dire che c'è un problema. Per chi è anziano, si sente particolarmente instabile, si siede e lo fa la seduta. poi ci sono tutti, io li chiamo delle violenze terribili, le violenze terribili, cioè le cannone che ci hanno messo nelle braccia. e lo rifacciamo con questa zona. tocchiamo la parte, estendo la testa, muovo, su e giù. vediamo l'altro braccio. qui vedete, dividilo decisamente di più. qui ho sbagliato quattro volte e non sono riusciti a prendere la vena. qui hanno provato e non ci sono riusciti. qui ho detto basta perché mi sono tutte le balle. basta perché sono stufo e gli voleva dimostrarvi che erano capaci. non ce l'hanno fatta e hanno nuovamente rotto un altro vaso. più un altro vaso, più una zona dove è stato fatto un sondaggio anteriore. una dopo l'altra se ne trattiamo. quindi mettiamo la mano qua, testa estesa, muoviamo il corpo. per fare funzionare ancora meglio l'esercizio, mettiamo una mano a questa altezza. avviciniamo la zona dove ci sono le lesioni, verso la mano che tocca, esercitando una certa forza. testa estesa, benissimo. e lo facciamo. e lo facciamo. e lo facciamo. e lo facciamo. bene. se avete altri tagli da qualche parte è ovvio che va eseguita anche in quella zona questo tipo di rieducazione neurologica. lo facciamo. e lo facciamo. морi e lorsque ti mostriamo seshi soチ również soattedFit e vele con tempi